L'intelligenza artificiale Nel prossimo decennio, l'IA farà progressi significativi nelle capacità di apprendimento automatico e diagnostica. Assisteremo all'aumento dell'automazione in vari settori, come la produzione, la logistica, la sanità e l'assistenza clienti. Questo porterà a una maggiore efficienza, riducendo il carico di lavoro manuale e consentendo alle persone di concentrarsi su compiti più creativi e strategici. 2. Espansione dell'IA nell'industria L'IA si diffonderà in molte altre industrie, tra cui l'agricoltura, il turismo, l'energia e l'edilizia. L'analisi predittiva e la gestione dei dati basata sull'IA aiuteranno a migliorare i processi decisionali e ottimizzare le risorse. 3. Consentendo alle aziende di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. 3. Salute e medicina personalizzata L'IA rivoluzionerà il settore sanitario, aprendo la strada a una medicina personalizzata. Algoritmi di apprendimento automatico analizzeranno grandi quantità di dati genomici, consentendo diagnosi più accurate e terapie mirate per pazienti con malattie complesse. 4. Trasformazione del settore dei trasporti Con l'IA alla guida, il settore dei trasporti sperimenterà una trasformazione radicale. L'introduzione di veicoli autonomi diventerà sempre più comune, promettendo di ridurre gli incidenti stradali e il traffico, nonché di migliorare l'efficienza del trasporto merci. 5. Intelligenza artificiale etica e regolamentazione Con il crescente utilizzo dell'IA, sorgono anche importanti questioni etiche e di sicurezza. Le sfide riguarderanno la protezione dei dati, la discriminazione algoritmica, l'impiego militare e le questioni di privacy. La regolamentazione dell'IA diventerà essenziale per garantire un utilizzo responsabile e trasparente della tecnologia. 6. Impatto sull'occupazione L'automazione guidata dall'IA avrà un impatto sull'occupazione, con la possibile eliminazione di alcuni lavori a bassa qualifica e la creazione di nuove opportunità in settori emergenti. Sarà fondamentale investire nella formazione e nella riqualificazione dei lavoratori per prepararli alle nuove sfide dell'economia basata sull'IA. 7. Creatività e arti ai generate L'IA sta già dimostrando la sua capacità di produrre opere d'arte e contenuti creativi. Nei prossimi anni, vedremo sempre più esempi di musica, arte, scrittura e film generati da algoritmi, aprendo nuove frontiere nell'espressione artistica. 8. Intelligenza artificiale quantica La ricerca sull'IA quantistica è in corso e potrebbe portare a progressi sorprendenti nella risoluzione di problemi complessi che oggi sarebbero impossibili da affrontare con l'IA convenzionale. In conclusione, l'intelligenza artificiale continuerà a evolversi in modo rapido e pervasivo nei prossimi dieci anni, influenzando tutti gli aspetti della nostra vita. Sarà cruciale affrontare le sfide etiche e di regolamentazione per garantire che l'IA sia utilizzata per il bene comune e che i suoi benefici siano distribuiti equamente. L'adozione responsabile dell'IA e l'investimento nella formazione aiuteranno a preparare la società per un futuro in cui la tecnologia IA sarà parte integrante delle nostre vite.